Siamo lodati Gesù e Maria Cari fratelli e sorelle, oggi celebriamo la festa del Battesimo del Signore Questa festa è stata collocata dopo quella dell'Epifania perché è sempre stata considerata come la manifestazione di Gesù, figlio prediletto del Padre La prima lettura di questa festa ci narra del ritorno festoso del popolo di Israele nella città santa di Gerusalemme dopo lunghi anni di esilio in terra straniera Dio aveva perdonato il suo popolo e aveva posto fine alle sue sofferenze Questa lettura si addice molto bene al tema di oggi Il profeta Isaia così esclama Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è compiuta La sua colpa è scontata perché ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati Il peccato ci separa da Dio, ci condanna all'esilio, ovvero alla lontananza da Lui che è il nostro Creatore Inoltre con il peccato si innalza come un muro tra noi e i nostri cari per cui ci sentiamo veramente soli con la nostra miseria e viviamo come in esilio Gesù è venuto a salvarci e a ricondurci al suo ovile L'annunzio di questo evento di salvezza è dato da un gesto simbolico Gesù si sottopone al battesimo amministrato da Giovanni Ciò che sorprende è come mai il Figlio di Dio abbia voluto ricevere quel battesimo Non furono certamente le acque a santificare Gesù Ma al contrario fu Lui, Gesù, a santificare le acque e a renderle poi materia per il sacramento del battesimo Gesù si assoggettò al battesimo di Giovanni per dare a noi un esempio di umiltà e per farci comprendere che siamo noi ad avere estremo bisogno di purificazione Vi è una grande differenza tra il battesimo di Giovanni e il sacramento istituito da Gesù Il battesimo di Giovanni fu solamente un segno di penitenza che richiamava il fedele all'impegno nel mutare condotta di vita Esso era un gesto simbolico di umiltà da parte dell'uomo che si riconosceva peccatore e provava un grande desiderio di purificazione e di rinnovamento Il battesimo di Gesù, invece, è il sacramento che ci toglie realmente il peccato originale il peccato di Adamo ed Eva che abbiamo ereditato dai nostri progenitori ed è il sacramento che ci rende figli adottivi di Dio Dopo che noi abbiamo ricevuto il battesimo Gesù è iniziato a vivere in noi per cui valgono anche per noi le parole che il Padre pronunciò dopo che Gesù ebbe ricevuto il battesimo di Giovanni Tu sei il figlio mio, l'amato in te ho posto il mio compiacimento Nel giorno del nostro battesimo per bocca dei nostri genitori e dei nostri padrini e madrine noi abbiamo preso degli impegni molto importanti davanti a Dio Abbiamo infatti promesso solennemente di rinunziare al peccato e di credere fermamente a tutto quello che la Chiesa ci propone a credere Di tanto in tanto è cosa molto buona rinnovare queste promesse battesimali con convinzione sempre maggiore San Luigi Maria di Monforte al numero 126 del Trattato della vera devozione a Maria insegna che la consacrazione mariana è la migliore rinnovazione delle promesse battesimali Così egli scrive Ho detto che questa forma di devozione può benissimo definirsi una perfetta rinnovazione dei voti o promesse del santo battesimo Ogni cristiano infatti prima del battesimo era schiavo del demonio poiché gli apparteneva Nel battesimo di propria bocca o per mezzo del padrino e della madrina egli ha rinunciato solennemente a Satana alle sue seduzioni e alle sue opere e ha scelto per padrone e sovrano Signore Gesù Cristo al fine di dipendere da Lui in qualità di schiavo d'amore È precisamente ciò che avviene nella presente devozione Si rinuncia, come è notato nell'atto di consacrazione al demonio, al mondo, al peccato e a se stessi e ci si dà interamente a Gesù Cristo per le mani di Maria E si fa pure qualche cosa in più Nel battesimo si parla d'ordinario per bocca di altri cioè del padrino e della madrina e ci si dona a Gesù Cristo soltanto per mezzo di un rappresentante Con questa devozione si agisce invece di persona volontariamente e con conoscenza di causa Ebbene, cari fratelli e sorelle con la consacrazione alla Madonna vissuta fedelmente riceveremo un grande aiuto per vivere da buoni e santi cristiani e da essa dipenderà la nostra felicità su questa terra e una grande gloria in paradiso Siano lodati Gesù e Maria